Inauguriamo la settimana europea della mobilità sostenibile con una strada scolastica in quinto municipio proprio a via di Centocelle che tutelerà un nido quindi con i genitori e i ragazzi che arrivano tutte le mattine. Già è stato pedonalizzato il pezzo dell'ingresso al nido ma abbiamo messo in sicurezza anche via di Centocelle che è la strada a scorrimento veloce con dissuasori, rifacendo i marciapiedi, rifacendo le caditoie, mettendo un indicatore di velocità proprio per far sì che la velocità su questa strada venga abbassata e aprendo un cancello limitrofo proprio per consentire il parcheggio dei genitori che poi commutamente a piedi possono immettersi in questa via pedonalizzata e portare in sicurezza i bimbi al nido. È quello che dobbiamo fare nel resto di Roma per avere appunto una mobilità più sostenibile e una sicurezza stradale che diminuisca i morti nelle nostre strade e anche i feriti.